È il volto globale del movimento della protesta bielorussa, un'insegnante di scuola che è finita alla ribalta senza volerlo e che ha assunto il ruolo di leader dopo che suo marito, che concorreva alla presidenza del suo paese, è stato arrestato. Svetlana Tsikhanovskaya ora vive in esilio in Lituania, ma da lì è comunque riuscita a galvanizzare il movimento di protesta e incontrare i leader europei, mentre cerca di continuare la lotta dopo le contestate elezioni di agosto. Continua a farlo qui al Globsec di Bratislava. Svetlana Tsikhanovskaya, ora prima di tutto, parliamo del mandato d'arresto emesso dalla Russia. Come ha reagito quando l'ha scoperto? Non ha cambiato nulla. È un problema loro. Stiamo lottando per la vittoria e solo dopo la vittoria potrò tornare a casa. Questo è tutto. Svetlana, lei come si sente però personalmente quando ha un avversario come la Russia che vuole impedirle di portare la democrazia nel suo paese? Sa, il problema non è in Russia. Il problema è in Bielorussia. Stiamo parlando della Bielorussia e dobbiamo prestare attenzione alla Bielorussia, non alla Russia. È nostra responsabilità risolvere questa crisi politica all'interno della Bielorussia. Non ha paura quando c'è un mandato di cattura spiccato dalla Russia sulla sua testa? No. È una donna molto coraggiosa. Lei ha incontrato una serie di leader europei qui a Bratislava, anche Angela Merkel. Ha parlato con Emmanuel Macron. molti discorsi, ma quali impegni concreti e attuabili sono stati presi? Tutti i leader che ho incontrato sono estremamente favorevoli al popolo bielorusso. Capiscono per cosa stiamo combattendo, perché lo facciamo e cosa vogliamo dalla fine di questa lotta. Al momento devo chiedere una mediazione nell'organizzazione dei negoziati con le nostre autorità. Quindi ho chiesto se possano farsi mediatori e penso che saranno utili in questo ruolo. Voleva che fosse Angela Merkel, il cancelliere tedesco, a mediare? Ha risposto sì. Ha detto che farà del suo meglio per aiutarci in questo progetto. Come? Cercherà di trovare con noi una via d'uscita, perché lei è un politico esperto e sa come organizzare al meglio le cose. Forse mentre organizzano questa mediazione può accadere qualcos'altro. È un messaggio alle altre nazioni. Abbiamo bisogno di aiuto, ma andremo avanti all'interno del paese indipendentemente dal fatto che altri paesi possano mediare o meno. Questo è un problema interno in Bielorussia, ma la Russia deve essere parte della soluzione. Come intende coinvolgere Vladimir Putin? Sa, dobbiamo distinguere il popolo russo dal cremlino, perché siamo amici con il popolo russo. Abbiamo dei parenti e abbiamo degli amici laggiù. E in futuro, se verrà un nuovo presidente in Bielorussia, vogliamo continuare queste relazioni. Siamo vicini da sempre. Anzi, vogliamo ampliare questo rapporto con la Russia, ma è un peccato che il cremlino abbia sostenuto il regime bielorusso. Non possiamo farci niente. Siamo pronti a parlare con il cremlino. Non vediamo l'ora di parlare con loro. Ed è un peccato non aver trovato nessun contatto al momento. Svetlana, lei ha mostrato foto di abusi di diritti umani nel suo paese. Centinaia di persone vengono arrestate ogni settimana quando ci sono le proteste. Le piacerebbe vedere il presidente Lukashenko davanti alla Corte Penale Internazionale per essere processato? Potrebbe essere oggetto di trattativa, ma sarà un qualcosa oggetto di trattativa? Certamente anche sarebbe più facile lasciarlo andare. Noi non nutriamo sentimenti di vendetta. Vogliamo solo costruire un nuovo paese, un paese democratico. E se lui può andare da qualche parte, al mare, e trascorrere il suo tempo lì, penso che si potrebbe fare. È preoccupata che il movimento di protesta vada avanti, settimana dopo settimana, portando così tante persone in strada, ma che non ci siano cambiamenti? Se la comunità internazionale non vi sostiene nel modo in cui vorreste, teme che senza cambiamenti il movimento potrebbe spegnersi? Il movimento di protesta non si estinguerà. Le manifestazioni forse diminuiranno, a causa del tempo e di altri fattori, non lo so. Ma le proteste no, perché la nostra gente non potrà mai tornare a quello stato di schiavitù a cui eravamo abituati da 26 anni. Tutto è cambiato. Sentiamo di essere uniti, di essere una nazione, e siamo orgogliosi di essere il popolo bielorusso. I bielorussi sono pronti a combattere fino alla vittoria. E l'autorità deve capirlo. Allora mi dica, come spiega cosa sta succedendo ai suoi figli? Il loro padre è in prigione, la loro mamma ha dovuto lasciare il paese, sono dei ragazzini, anche io dei figli. Come può spiegare loro quello che sta accadendo? Mia figlia è più piccola, ha solo 5 anni, e non capisce che suo padre è in prigione. La situazione con lei è peggiore, perché le manca così tanto il suo papà. E ogni sera fa la stessa domanda, quando torna papà, mi manca così tanto. E io devo dirle, il viaggio d'affari, scusa, tornerà molto, molto presto. Ogni sera è la stessa storia. Mio figlio maggiore capisce dove è suo padre, ma non mi fa molte domande, perché è abbastanza adulto da capire che è doloroso. E insomma, in qualche modo, ce la caviamo. Come gestisce questa tensione? Come gestisce tutto questo? Ha vissuto dei cambiamenti enormi, improvvisamente è diventata una figura che tutti riconoscono nel mondo. Come lo gestisce? Siamo donne, siamo forti, siamo molto più forti di quanto la gente pensi delle donne. La mia gente è la mia ispirazione, è ciò che mi dà la forza per andare avanti. Svetlana Siklowska, molti grazie per parlare con noi.